buongiorno buongiorno da antonio della svizzera faccio questo breve video per un info dunque domani alle 11 facciamo il punto di del campionato in diretta su youtube oggi purtroppo non ho potuto fare perché il mio computer sta facendo le bizze ha detto vedi vedi te ne andrà fanculo oggi ecco non ho potuto fare allora vi do appuntamento a domani facciamo così la completa giornata calcistica della serie complesso se qualcuno vuole entrare facciamo due chiacchiere sulla partita della juventus che ha giocato sabato poi il punto della champions lo facciamo giovedì dunque il seguente giorno se il computer riusciamo a farlo partire in mortacci sua oggi ho detto di no allora ragazzi vi saluto questo breve video ci risentiamo domani alle 11 speriamo che il computer parte iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale e mettete un like ciao